Gossip News, Garko entra in formissima al GF VIP, Pago diventa una star a tale e quale show indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro. Ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News. Questa volta vi parliamo di Gabriel Garko al grande fratello VIP, di Pago star a tale e quale. Show, di Temptation Island e la rivelazione su Anna e Gennaro e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Gabriel Garko, entra al GF. VIP Gabriel Garko. L'attore incontrerà a due del Vesco e morra. Come andrà a finire? Tale e quale sh o w, Pago è già una star a tale e quale show e in più ha preso un'importante decisione, non parlerà più di Serena e la sua vita privata. Temptation Island, allerta spoiler. Gennaro vuole rivedere Anna e rimettersi con lei. Il ragazzo ha annunciato di amare ancora la sua ex fidanzata. Cosa accadrà nella prossima puntata? Stasera in tv, ecco qui l'offerta di intrattenimento delle reti Rai e Mediaset, Rai 1 tale e quale show, Rai 2 pallavolo, Supercoppa, Cucina e Carry Rai 3 le ragazze, Rete 4 quarto grado, Canale 5 grande fratello VIP, Italia on Freedom. Buona visione. 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 Grazie a tutti